Stiamo generando al meglio perché contiamo di fare bene contro questa squadra, anche se sulla carta in classifica sono messe meglio di noi, sono terze, però ci stiamo generando con la giusta grinta e speriamo di fare bene, sicuramente meglio dell'andata. Sì, noi cerchiamo di fare il nostro gioco, cerchiamo di allenarci bene, poi quando la partita si vedrà andando giocando bene cercheremo di metterle in difficoltà con i nostri punti forti. Continuiamo di fare bene anche sfruttando tutte le partite che ora abbiamo in casa e con la giusta determinazione ce la possiamo giocare con chiunque, dobbiamo scendere in campo convinte di poterlo fare. La partita dell'andata è stata una gran bella partita, forse la prima partita giocata bene da parte della mia squadra, anche se abbiamo portato via soltanto un punto, una squadra che abbiamo contenuto bene nonostante le bocche di fuoco siano davvero di altra categoria. Ci stiamo preparando per comunque affrontare questa squadra nella maniera più consona possibile, per portare i tre punti dentro e arrivare alla quarta vittoria consecutiva che non sarebbe una gran bella cosa per noi. Certo, ogni vittoria aiuta la classifica, aiuta il morale, quindi prima arrivano i punti necessari alla salvezza e meglio è, anche se devo dire siamo messi adesso in maniera buona in classifica, abbiamo diverse squadre sotto e tutti gli sconti diretti li abbiamo in casa, quindi comincia a diventare una classifica più consona a quello che erano le aspettative all'inizio del campionato. Certo, è una squadra comunque una partita difficile, non ci tiriamo indietro, comunque abbiamo giocato con altre squadre di un certo livello e abbiamo giocato quasi sempre alla pari in casa, quindi perché non provare anche se, ripeto, abbiamo qualche problema fisico da parte di qualcuno, ma senza nessun timore verso nessuno, verso nessuna squadra, verso nessuna giocatrice, andremo in campo e ce la metteremo tutta per portare i tre punti dentro.